Questa mattina abbiamo voluto dedicare un momento importante di ricordo, il 9 settembre, giorno del suo compleanno, al poeta Giacomo Zanella, vicentino che ha fatto lavori importanti nell'ambito della poesia e della letteratura per la nostra città. Lo abbiamo voluto ricordare con un momento nei chiostri di San Lorenzo, un momento di ricordo anche davanti alla sua tomba e al tempo di San Lorenzo e poi la presentazione del restauro della statua qui con Engim all'interno della piazza di San Lorenzo, quindi un momento importante per ricordare il nostro poeta Zanella.